Piccola clip, Maurizio ci parla dell'amicizia. Maurizio, l'amicizia. L'amicizia viene spontanea da una persona onesta e da una persona invece che vuole strafare. Io sono una persona onesta, mi trovo bene con tutti, anche se è uomo o donna. In particolare modo mi trovo bene se è una donna, però anche con gli uomini. Ho un'amicizia che io non so quanti amici ho, perché oggi e domani, io sono scatole, marele, diciamo. Ma oggi e domani se dovrei sposarmi non saprei quanti amici invitare al mio matrimonio, perché io gli sono simpatico a tutti, anche se ci saranno quelli che proprio gli sono un po' antipatici. Perché non capiscono? Ma i veri amici sono pochi. I veri amici sono pochi. Quanti? Pochi. Io ce ne ho tanti veri amici. Tanti. Non saprei dirti una cifra, ma ce ne ho tantissimi di amici. Perché uno dice poco, sono cinque. Ma io ce ne ho di più di cinquanta miei veramente amici, ma proprio dentro nel cuore. Purtroppo bisogna saperli coltivare e entrare nell'ambiente. Dopo se uno ti sfotti ogni tanto, bisogna lasciare e anche mollire. Però io ho il carattere come mio padre. Mio padre era uno così che faceva... Sapeva tenere l'armonia della gente. E' per questo che io so tenere l'amicizia. Perché anche con te... E' per questo che vuoi amici. Amici? D'accordo. 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 D'accordo.